3, 2, 1... Buongiorno a tutti, siamo gli alunni del liceo Stanislavio-Nizzaro. Questo è un piccolo assaggio della nostra scuola. I nostri laboratori rendono lo studio stimolante e divertente. Il video è finito, ma abbiamo ancora molte cose a contarvi. Facciamo così, incontriamoci dall'8 al 12 novembre al centro commerciale Roma 2. Noi ci saremo! Anche noi!